Oggi facciamo i signori Così, i primi due tiri e poi si gira dietro Così, i primi due tiri e poi si gira dietro Sosta del quarto tiro, 45 metri di prima e seconda Così, i primi due tiri e poi si gira dietro Così, i primi due tiri e poi si gira dietro Sosta nel sesto tiro in cenza, qui è un po' marcetto, forse mi sento spinta da telecamera. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!